9 dicembre 1977. Il Parlamento italiano approva la legge 903 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro. Meglio nota come legge Anselmi, la legge vieta ogni discriminazione di genere per l'accesso a qualsiasi tipologia di lavoro. Ministro del lavoro è la democristiana Tina Anselmi, prima donna ministro della Repubblica nel 1976.